sono federico buffa sono in questo momento alla next gen ovvero sia a un appuntamento importante creato da a better basketball e next gen significa prossima generazione un diciannovenne del mondo contemporaneo sa la verità ovvero sia sa più o meno che tipo di giocatore è quello per forza e che tipo di giocatore diventerà alle volte è difficile ammetterlo però io credo che la costruzione del giocatore di altissimo livello sia basata su talento senza nessuna parte sacrificio e in mezzo a questa grande ellisse c'è la diciamo la fase ossessiva tutti i fuori classica quella fase ossessiva quella che li fa allenare 5 6 volte di più degli altri se pensi che nel mondo contemporaneo si possa vivere di sport a livello professionale bisogna sempre pensare che sia soggetti a infortuni e comunque una carriera breve non pensare quello che succederà dopo a meno che tu non sia finito in un posto straordinario dove tu hai la certezza di diventare un professionista io penso che tenere in piedi tutte e due le lezioni sia fondamentale se non dire necessario cosa mi porto di quell'esperienza cioè della mia laurea in giurisprudenza la formazione giuridica è una formazione utile direi duttile plastica può essere usata in tanti ambiti non è vero che io non l'ho utilizzata nel senso che nel periodo in cui io seguivo professionalmente degli atleti invece l'ho usata tanto io lo tengo tranne un caso ai Clippers che quindi si vedono raramente a una squadra io tengo i giocatori e quindi faccio il tifo per tutti per questo e per quell'altro indipendentemente dalla squadra mi piacciono le singole giocate e un sacco di volte io grido if you don't like this you don't like NBA basketball sono solo a casa però ai nostri tempi pensare a un italiano l'NBA era una cosa da fantascienza oggi ce ne sono tanti ci sono stati e ce ne sono tanti istruzioni per l'uso se l'NBA è il vostro obiettivo ma non è neanche uno su mille è uno su due centomila però obiettivamente perché non pensarci se tu non hai una grande leva se tu non hai un pensiero forte probabilmente impegni meno mentalmente e corporeamente le tue risorse invece io penso che sia giusto pensare quello è il mio obiettivo non ci sono arrivato ma io devo avere quell'obiettivo next gen significa prossima generazione siete la prossima generazione avete tutto il diritto e anche un parte del dovere di pensare in grande perché si vive una volta sola e si vive in grande